Allora, video diviso in due parti perché abbiamo un unboxing di due prodotti cioè abbiamo un unboxing di due prodotti comunque a tema quindi regia abbiamo la Resistant of London action figure di Watch Dogs Legion e la San Francisco edition di Watch Dogs 2 questa collector qua non l'ho mai presa subito perché non ho avuto l'occasione perché essendo andato molto bene in Watch Dogs 1, Watch Dogs 2 la collector è andata sold out subito e la regia mi dice che non ho avuto il day one quindi non sono riuscito a procurarmela adesso mentre facevo i miei acquisti natalizi per fare i vari regali mi è spuntata fuori questa qua in edizione Xbox One Regno Unito nuova ancora sigillata quindi vuol dire che questa collector qua è del 2016 che è ancora sigillata ed è coperta da garanzia Amazon quindi GG teoricamente il fatto che io non riesco a tagliarla potrebbe essere un problema ok ce la posso fare comunque quindi potrebbe essere in inglese poco male io questo gioco qua l'ho già giocato due volte una volta su PC e una volta su PS4 l'idea era solo avere la colletto cioè quindi lo rimuoviamo accicciamoci a rimuovere con questo imballaggio questo imballaggio che si apre poi ok magneticamente così ok questa qua possiamo toglierla allora qui abbiamo subito è legato ah è legato ok capisco qui abbiamo finito l'action figure di Marco Marcus ha perso un braccio ho trovato il braccio di Marcus ok ok allora abbiamo qua un cassettino nella parte inferiore della struttura abbiamo un cassettino che contiene allora qui dentro abbiamo pubblicità su altri prodotti ovvero ehi compra anche l'action figure di Wrench hanno la base che si attacca insieme puoi avere un action figure praticamente unica che in realtà sono due separate niente penso che sarà difficile anche trovare quest'action figure a questo punto visto che comunque sono passati 4 anni abbiamo qua un codice abbiamo qua i codici per dei contenuti extra della deluxe abbiamo penso che sia un game addon penso sia un livello bonus dato dalla collector il gioco vero e proprio che è in edizione praticamente è in edizione del Regno Unito infatti è è in italiano infatti è in italiano le scritte sono in italiano meno male che cioè qua enter the hacker world qua sotto in italiano è tutto scritto in italiano quindi a questo punto penso sia tutto la vita sia una menzogna e se mi dici guarda che questa roba qua è in inglese poi c'è scritto in italiano adesso mi confono niente tutti però c'è un sigillo strano prevento che è la prima volta che apro un gioco dell'Xbox nuovo ne ho tipo due comprati usati il resto tutto in digitale e niente non penso penso non c'entra niente però ecco qua il gioco c'è un sigillo ambiguo va bene l'idea è adesso ok qui abbiamo in questa bellissima busta molto premium abbiamo questa foto che poi in verità è una stampa di un render 3D di Marcus di San Francisco da lontano con sfondo del Golden Gate Bridge e questa foto chiamiamole foto anche se non sono foto di un gruppo di attivisti del Deadstech su una gru in mezzo alla città con la bandiera del Deadstech e la busta qui troviamo degli adesivi vale che ho scritto Watch Dogs 2 logo di Watch Dogs 2 San Francisco e altre cose e come ultima senza contare ancora l'action figure che adesso guarderemo più nel dettaglio abbiamo la cartina di San Francisco che in verità sarebbe la mappa del gioco le cose coincidono essendo che il gioco è ambientato San Francisco giustamente è modificata allora vediamo se riesco a farvela vedere per bene ok qua è al contrario perfetto ok qui abbiamo la mappa del gioco con le varie illustrazioni dei luoghi dei negozi e location del gioco con alcune aziende o personaggi o cose del gioco indicate per io qua abbiamo la Bloom che è il centro del sito S e abbiamo qui questa diciamo anche qua foto di San Francisco qua abbiamo il San Francisco con il Golden Gate Bridge un elicottero che vola e le le colline californiane molto molto bella questa anzi questa azzardaria dire che questa non sia un render 3D ma forse una foto vera e propria di San Francisco perché non mi sembra modificata non mi sembra niente accingo a rimuovere tutto per dare spazio al alla parte bella diciamo della collector ovvero Marcus Marcus che si trova un attimo in una posizione sfavorevole visto che è legato dalla testa ai piedi in realtà dal busto ai piedi però noi non siamo pignoni giusto regia dannati imballaggi di plastica dite no alla plastica sia Marcus ma il braccio mi era rotto si wii ormai allora sono un medico posso affermare che con un po' di una sostanza magica chiamata attack tornerà tutto come deve comunque potete vedere che wii wii niente abbiamo Marcus con in mano una pistola taser infatti è una pistola taser uno smartphone con scritto deadstech il cappello con scritto deadstech la sua giacca con la t-shirt con scritto deadstech le sue spille del deadstech e il suo zaino con altre spille del deadstech quindi effettivamente Marcus fa parte del deadstech come lo sappiamo e sulla base abbiamo questa strada diciamo sembra un marciapiede distrutto rovinato con il logo di watchdogs 2 niente molto molto carino mi piace approvo liberandoci un attimo di tutte le cose passiamo a una cosa un po' più recente che è la resident of london che ovviamente è un action figure a parte questa non contiene il gioco contiene dei contenuti extra per il gioco si però voi dovete già possedere il gioco infatti ecco qua il codice che non vi farò vedere quindi questa era in offerta su amazon ho pagato circa 20 euro in meno del prezzo di destino e ho detto siamo sotto Natale perché non farmi un regalo di Natale ovvero smaltire tutta la plastica è legata è legata l'ho capito perché prima l'hai lanciata qui bisogna portare dei tagli chirurgici meticolosamente fatti con un bisturi c'è aperto no ok si allora mancava ancora ok allora partiamo questo da parte prendiamo la nostra action figure prendiamo la testa intercambiabile della nostra action figure ok allora qui abbiamo il nostro personaggio che se non erro in game si chiama Winston no è un attivista in generale si però il suo nome il suo nome non è Winston giusto no perché quello è un attivista è solo la testa che è il maiale io preferisco chiamarlo Dio mi dissocio mi dissocio comunque troviamo questo in questo completo molto elegante in giacca e cravatta con la la targhettina di presentazione con scritto e lo io sono dead sack in questo caso e il fazzolettino nel taschino mettete meglio dei b-roll con la trama della bandiera londinese lo troviamo anche lui con lo smartphone in mano e nell'altra mano niente troviamo nella base la la il cartello un cartello per terra con scritto keep calm and resist e il nostro personaggio con il piede su un casco dell'Albion che per chi ha giocato o non ha giocato Watch the Drift Legion sono diciamo i i cattivi ragazzi della situazione nel chilling qui abbiamo una scritta con scritto look left e la una cosa simpatica di questa di questa action figure è che noi possiamo andare a intercambiare la testa con la testa del diciamo del mascotte principale di Watch Dogs Legion ovvero il teschio con la corona e con la maschera li puoi tenerla in game con il codice del nuovo esatto come sta dicendo la regia non so se si è sentito perché il microfono è puntato verso di me comunque con il codice che c'è insieme all'action figure voi potete avere questa maschera qua direttamente in game che tra l'altro è un codice universale non c'è distinzione di piattaforma ah no perché va fatto dal sito devi passare per il sito bisogna passare per il sito mettere il codice che trovate qua e da lì puoi selezionare su che piattaforma volete ricevere se hai già l'account ubi si niente volendo possiamo mettere la testa per terra ho visto alcune persone che mettevano la testa per terra e tenevano una delle delle teste sopra il personaggio successivamente gli si può addare questa bandiera devi adattarla al braccio mettere un po' come cazzo così lui ce l'aveva tipo così perché non era una bandiera col manico cioè non era lui non ha un manico devi adattarla al braccio ma perché questa puoi fregarla chica va bene mi tengo un po' di cazzo e abbiamo questa questa bandiera che gli si può che si può portare sul sul personaggio un po' a nostro piacimento niente direi che per il prezzo che ha direi che vale ancora la pena perché mi sembra un ottimo pezzo da collezione per quanto ho pagato la collector di Watch Dogs 2 è un ottimo prezzo quindi mi ritengo soddisfatto dell'acquisto ovviamente uno è una collector e uno è un action figure e basta comunque abbiamo qui chiederei alla regia di portarmi cortesemente l'action figure di Aiden Pierce per far vedere le tre action figure insieme così diciamo che tra virgolette ho completato il trio dei tre capitoli tecnicamente questa non è quella della collector ma giustamente qui abbiamo effetti speciali di qualità questo è cinema signori questo è cinema comunque qui abbiamo Aiden Pierce dalla collector di Watch Dogs 1 abbiamo Marcus dalla collector di Watch Dogs 2 e quello che chiamano Winston dalla action figure special edition di Watch Dogs di John devo dire che tutti e tre insieme fanno la loro porca figura senza offesa Winston per la battuta diciamo infelice io vi ringrazio per aver visto questo video ringrazio la regia per essere qui a supportarmi giusto ora che ho comprato tutta l'attrezzatura per non avere più bisogno di una regia grazie niente al prossimo video ci vediamo quando ci vediamo visto che non so quando uscirà questo video qua non so quali video sono usciti e quali video sto ancora lavorando quindi potrei dirvi ci vediamo nel video di stadia magari è uscita quindi niente ciao